Mariano Di Vaio di nuovo papà, la famiglia si allarga ed io sono felice Dopo Nathan Leone, Mariano Di Vaio si prepara ad essere per la seconda volta papà. Lo rivela in esclusiva a Vanity Fire nell'ambito di un'intervista accompagnata da un servizio fotografico proprio in compagnia di sua moglie, la bella Eleonora Brunacci. Proprio in questi giorni, Mariano Di Vaio festeggia il primo anno da papà con il piccolo Nathan Leone. Il desiderio di un altro figlio per la coppia era già ben chiaro, così ora ha finalmente ufficializzato la notizia. La famiglia si allarga. Nathan Leone è il primo figlio della coppia ma adesso il top influencer d'Italia, proprietario di un'azienda che ha già 15 dipendenti, racconta a Vanity Fire che la famiglia si sta allargando con grande velocità. E la notizia rimbalza già tra i suoi 11 milioni di follower. Arriverà un altro maschietto oppure ci sarà la femminuccia?. Arriverà una bellissima sorpresa, diventerò genitore per la seconda volta dopo il mio esserlo di Nathan Leone. Non ce lo aspettavamo così presto, ma lo cercavamo, la famiglia si sta allargando velocemente e non potrei essere più felici di così. Come è cambiata la vita di Mariano Di Vaio?. Mariano Di Vaio aveva raccontato avverissimo che la popolarità acquisita attraverso i social network gli ha cambiato completamente la vita. Scappato da casa a 18 anni per studiare recitazione, si è diviso tra Londra e New York per studiare. Ricorda che viveva con poco più di 3 dollari al giorno, lì ha scoperto i bloggi Tornato in Italia ne ha aperto uno di cinema e uno di moda. A quel punto, le persone si interessavano a lui per il suo outfit, ha cominciato così a dare consigli. Oggi la sua vita è cambiata. Rispetto a un lavoro tradizionale, come quando facevo il cameriere, si guadagna tantissimo, sono cifre che mai avrei pensato di guadagnare. Però cè tanto lavoro dietro. Non vediamo il prossimo episodio.